I'm the Trumpster motherfucker Eeeh sono andato un pochino avanti con la storia raga, e adesso, che buono Cos'è sto mancello? Uh cazzo, sto mancello Iniziamo subito Allora speriamo subito di trovarlo perchè il tapiro, diciamo che è uno dei più facili da trovare Sono andato già subito nella sua zona, ho cliccato già dove doveva essere Infatti Questo cazzo sta, il tapiro Eccolo qua Cioè dai, non è possibile Ok, che ricominciamo la serie su falchere 3, però che cazzo, durata Manco un minuto è durata, minchia No, piacermi lo sfrotto bastardo di un caino No, provo a cercare altri Che cazzo è, subito, così finito, durato manco mezzo minuto Vabbè dai, almeno parliamo insieme un po', raga Spero, se volete Cioè, se volete Eeeh, riprenderà questa serie qui Allora, la prossima Adesso dovevo decidere bene cosa fare in base a quello che vi manca Però, vi ricordo Non so, perchè Siccome è stato uno dei Mh, nel mese di gennaio Che cazzo è Che sei in culo, che sei in culo, che sei in culo, che sei in culo stronzo Vi è qua da Mh, che ti metti in dar culo Oh, dove cazzo Oh Che cazzo è, ha fatto Teletroppo forte Allora, Goku Ah Succhiami lo scrotto bastardo Ok Vabbè, non possiamo neanche prenderlo, perchè c'ho lo zaino Pieno, no? Mi sembra giusto Allora Vediamo un po' Che possiamo fare Direi proprio niente, perchè Un po' Dovrei andare qua Ecco Sì, va bene Anche se dovrei venderlo, però Vabbè, fa niente Un po' di tabelle Di tabelle in più Non fa mai male a nessuno E raga Il prossimo video che vedrete Molto probabilmente sarà Quello di FIFA 13 Per il road Dovrei incominciarlo Perchè ho pensato Che siccome Lo scorso video È quello della Della squadra perfetta Che sarebbe quello della Premier League Ok Fatto Comunque quello Visto che era quello della Premier League Non mi sembrava Giusto Cioè mettere su Dopo un video di FIFA Metterlo un altro L'ho fatto che se voglia Non posso far cry E il prossimo che vedrete Dovrebbe Essere FIFA Teoricamente Però Non si sa mai qua Per chi toglie la playstation E chi toglie il computer Non so Con la buttata del quartiere No No scherzo dai Bom raga Io Faccio che anticiparvi buona Anche il trofeo Mi sono pigliato E niente raga E spero che il video Vi sia piaciuto Anche se è stato un po' breve E non tanto emozionante Però Alla fine Non è che si può aspettare Più di tanto Niente raga Il video è finito Lasciate un bel mi piace Un bel commento Passate dalla mia pagina Facebook Che è in descrizione Anche la canzone dell'intro In descrizione Finalmente ve l'ho messa Iscrivetevi al mio canale Ci becchiamo Nel prossimo video raga E bella Ciao Grazie